Cari telespettatori, benvenuti a un episodio speciale dedicato a uno dei momenti più scioccanti e strazianti di Terra Amara. Oggi, sveleremo un'anticipazione cruciale che cambierà per sempre il destino dei nostri amati personaggi. Nell'episodio imminente, un evento tragico sconvolgerà le fondamenta della tranquilla Cucurova, portando a una perdita che colpirà il cuore della trama. Un protagonista chiave, il cui destino abbiamo seguito con fervore e affetto, sarà coinvolto in un evento drammatico che lascerà il pubblico senza fiato. L'inaspettato colpo di scena avrà conseguenze che si riverbereranno attraverso ogni angolo della storia, generando emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Se volete essere i primi a conoscere i dettagli di questo momento cruciale e partecipare alla discussione sulla svolta epica di Terra Amara, vi invitiamo calorosamente ad iscrivervi al nostro canale. Ficheli scopre che il nuovo uomo d'affari di Cucurova non si chiama Mehmet Kara, ma la sua vera identità è Akan Gumulu, una rivelazione che avrà conseguenze tragiche per Aliramet. Terra Amara, la serie turca che cattura l'attenzione del pubblico ogni pomeriggio su Canale 5, chiude una puntata della sua quarta e ultima stagione con un capitolo segnato da una tragedia che lascerà sotto sciocchi i più fedeli seguaci della fiction ottomana. Se non vedete l'ora di scoprire cosa succederà nelle puntate che vedremo prossimamente, continuate a guardare e non vi perderete nulla. Ficheli stava per scoprire che Akan si nasconde sotto l'identità di Mehmet Kara, e Ficheli confermerà i suoi sospetti e affronterà Abdul Qadir con terribili conseguenze. È arrivata la fine di Ficheli? Tutti i dettagli dell'episodio qui sotto. Ficheli arriva a Isparta, dove spera di confermare i suoi sospetti. Il direttore di una delle aziende del vero Mehmet assicura a Ficheli che l'uomo ritratto nella foto del giornale con Zuleya non è il suo capo, ma Akan Gumulu. Alla luce di quanto appena scoperto, Ficheli torna a Cucurova pronto ad affrontare l'impostore. La prima cosa che fa è visitare l'officina di Abdul Qadir, dove, sotto la minaccia di una pistola, chiede al socio di Akan di dirgli dove si trova. Di fronte all'evasività del proprietario del negozio, Keskin, Ficheli lo uccide con una pistola, pretendendo risposte. Di fronte a questa situazione, Abdul Qadir è costretto a confessare. Afferma di aver conosciuto Akan a Beirut, di essere diventati amici e di aver iniziato a fare affari insieme, finché Akan non gli ha detto che era rovinato a causa di Demir. Con il suo ritorno a Cucurova, Akan intende distruggere Demir e mandarlo in bancarotta. Proprio come ha fatto con lui, questo è il suo obiettivo. Abdul Qadir, nel disperato tentativo di proteggersi, insiste di essere solo una vittima di Akan. Cerca di manipolare Ficheli sostenendo che Akan intende ucciderlo per la morte del fratello Erkan e non riesce a contenere la sete di vendetta del suo compagno. Tuttavia, Ali Rahmet è diffidente. Chiarisce di non essere un codardo e torna da Abdul Qadir. Anche se ho giurato che non avrei mai più tolto una vita per mano mia, rischierei di infrangere la mia promessa per difendere gli Aman, tutta la mia famiglia e certamente ognuno dei miei nipoti. Se scopro che ciò che mi hai detto non è vero, ti ucciderò. Ignari, Fikret e Cetin stanno per arrivare ad Adana e condividono la loro preoccupazione. È possibile che anche il biglietto di Demir sia stato falsificato e iniziano a temere il peggio. Anche Zuleya comincia a perdere le speranze e lo confessa a Lutfai, che cerca di incoraggiare la giovane donna, diventata per lei come una figlia. La complicità tra loro è cresciuta a tal punto che Lutfai condivide con Zuleya la sua preoccupazione per Ficheli, che ha detto di essere in viaggio ad Ankara per affari, ma lei crede che in realtà sia andato in Siria. Zuleya cerca di ottenere informazioni dal cotonificio, confermando che Ficheli non si è recato ad Ankara, anche se non sanno dove si è andato. Poco dopo, tornati ad Adana, Fikret e Cetin, disperati, si recano dal procuratore per chiedere aiuto nella ricerca di Demir, ma ricevono un rifiuto e Fikret, furioso, perde le staffe e aggredisce il procuratore. La situazione sfugge di mano e Fikret e Cetin vengono arrestati. Nel frattempo, Ficheli cerca Hakan e scopre che si trova nella Camera dell'Industria, quindi si dirige lì con l'intenzione di affrontarlo. Tuttavia, prima che possa arrivarci, un giovane in mezzo alla corsa chiede aiuto, affermando che sua madre è molto malata e ha bisogno del suo aiuto. Ma è tutta una trappola per far scendere Ficheli dall'auto. Il braccio destro di Abdul Qadir sorprende Ficheli e gli inietta nel collo una sostanza che fa smettere di battere il suo fragile cuore e lo fa crollare. L'aggressore mette il corpo di Ficheli nella sua auto con l'intenzione di far credere che abbia avuto un infarto mentre guidava e contatta il suo capo per informarlo che il lavoro è finito. Ignara di tutto, Zuleya, ancora in difficoltà, partecipa a una riunione d'affari in un club organizzato dalla Camera dell'Industria, dove è presente anche Hakan. Il bell'uomo d'affari, incapace di nascondere i suoi sentimenti per Zuleya, la fissa per quasi tutta la serata. Grazie mille per aver condiviso questo momento straordinario con noi. Ci auguriamo che abbiate apprezzato l'approfondimento su questa svolta epica di terra amara che ha segnato profondamente la trama della serie. La perdita di uno dei nostri amati protagonisti ha sconvolto il tranquillo scenario di Kukurova, lasciando una breccia che sarà difficile colmare. Se siete rimasti colpiti da questa tragedia e desiderate restare aggiornati su tutti gli sviluppi futuri, non perdete l'occasione di iscrivervi al nostro canale. Qui, esploreremo insieme le conseguenze di questo doloroso addio, analizzeremo le reazioni dei personaggi e condivideremo le teorie più appassionanti sulla direzione che prenderà la storia. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche per essere i primi a ricevere aggiornamenti su Terra Amara e altri contenuti esclusivi. Il vostro supporto è ciò che ci spinge a continuare a creare contenuti coinvolgenti e informativi. Grazie ancora per essere stati con noi in questo viaggio emozionante attraverso le vicende di Kukurova. Ci vediamo nel prossimo video, dove continueremo a esplorare i misteri avvincenti di Terra Amara. Fino ad allora, restate sintonizzati perché la storia ci porterà a nuove e avvincenti emozioni da condividere insieme. Grazie. A presto.